Svegliamo questi prodotti. La G350 è lo scooter classico più prestazionale di più alta cilindrata che c'è sul mercato. Ha 27 cavalli, può raggiungere i 140 chilometri all'ora. Ha delle dimensioni importanti ed ha proprio il DNA, il DNA Lambretta. Ha il telaio in monoscocca, ha i pannelli intercambiabili laterali e poi un'altra cosa fondamentale del design della Lambretta, che è il parafango fisso. La sospensione, anche questa, molto particolare, un doppio braccio oscillante con ruota tirata, quindi un prodotto di alta qualità, di altro profilo e che sicuramente diventerà il prodotto più importante della gamma Lambretta e forse nel mondo degli scooter, quello con più fascino. La G300 è un prodotto completamente nuovo e completamente diverso. Mantiene il DNA Lambretta, che è long and low. Long and low vuol dire lungo e basso. Vuole aprire la Lambretta a un mondo nuovo, a un mondo più giovane. Rimane una linea di tipo sportivo e anche qui abbiamo il parafango fisso all'anteriore, la forcella innegabilmente Lambretta, anche qui il faro anteriore a forma esagonale, ma anche un faro posteriore veramente molto personale, molto particolare, che saprà sicuramente dare una distintività al prodotto veramente speciale. Grazie. Grazie.